E la mia vita è una sceneggiatura, che non ho scritto io e nemmeno la natura. Io voglio una spiaggia bianca nel cervello, pescili incolorati e barriere di corallo. Reduce da Sanremo 2022, che l'ha consacrato tra i big della musica italiana, Giovanni Truppi è stato protagonista alla Fortezza Medicea di Arezzo per l'estate in Fortezza, rassegna organizzata dalla Fondazione Guido d'Arezzo. Le performance sul palco dell'Ariston con tuo padre, mia madre, Lucia, il brano in gara, hanno premiato il percorso dell'artista napoletano che in poco più di un decennio e cinque rischi ha saputo mettere in mostra le proprie qualità migliori. Per fortuna la canzone che ho portato a Sanremo è una canzone che mi assomiglia molto, che è molto in linea con quello che io ho fatto in tutti questi anni, quindi le persone nuove che si sono avvicinate alla mia musica assomigliano molto a quelle che l'hanno seguita nel tempo, anche negli anni precedenti, quindi questo non mi crea particolari sorprese. Quello che Truppi ama fare è infatti immortalare attimi facendone canzoni. La società è composta da persone e le storie delle persone sono una delle cose che mi appassiona di più, credo che quello che mi ha avvicinato alla creatività sono proprio le storie che ho incontrato, credo come tutti da bambino con le favole e poi con dei racconti più lunghi, con i libri, con i romanzi e quello insieme alle storie che ascoltiamo nella vita di tutti i giorni dai nostri amici o che leggiamo sul giornale, credo che costituisca la materia più viva dalla quale attingo quando scrivo. Lo vede sul sfondo.